Anche quest'anno siamo riusciti a mettere su un programma di Musica Classica e saranno quattro appuntamenti che verranno fatti al Chiostro di Cennano e partiranno martedì 7 alle ore 21.30 e abbiamo un concerto lirico, abbiamo Elena Tereschenko, un soprano già conosciuto qui a Montevarchi che già in altre occasioni abbiamo avuto l'occasione appunto di sentirla e sarà al pianoforte abbiamo Lorenzo Masoni e dopo martedì ci sarà un concerto il sabato 11, dopo ancora ci sarà il martedì 14 e finirà il sabato 18, quindi abbiamo quattro appuntamenti martedì, sabato, martedì e sabato. Come appunto ha detto l'assessore l'ingresso è gratuito e aspetto tutti e speriamo che dopo questa lunga attesa di riprendere alla grande.